L'intelligenza artificiale in questo momento è ovviamente al centro della nostra strategia, essendo un'azienda comunque basata su servizi digitali e che offre servizi digitali. È un tema attualissimo che fa parte appunto della nostra strategia, sia per quanto riguarda il nostro modo di lavorare all'interno, sia per quanto riguarda ovviamente quello che offriamo ai clienti. Una delle primissime azioni che abbiamo fatto è quella di nominare un Chief Artificial Intelligence Officer che si occupa chiaramente di guidare tutta questa strategia sia all'interno dell'azienda, sia nei confronti dei clienti. Abbiamo lanciato moltissime offerte nuove, basate chiaramente sulla piattaforma Microsoft e sulla piattaforma Copilot, grazie ovviamente a questo grande accordo che Microsoft ha fatto già qualche tempo fa con OpenAI e grazie a tutti gli strumenti che Microsoft sta lanciando sul mercato, i vari Copilot che sono proprio al centro di questa strategia. È chiaro che tutto questo, anche da un punto di vista interno, va supportato da una grandissima azione di formazione e di supporto al cambiamento, soprattutto per quelli che sono i nostri dipendenti e collaboratori che chiaramente tutti i giorni portano questa tecnologia sui nostri clienti. Quindi abbiamo lanciato una School of AI, un vero e proprio programma di formazione con diverse tappe e diversi livelli, proprio per accrescere la preparazione non solo tecnica, ma anche in termini di processi, di adozione di tutta la nostra popolazione aziendale e dico veramente tutta la nostra popolazione aziendale. Questo vuole essere un elemento assolutamente distintivo. Ultimo o non ultimo, chiaramente sono tutta una serie di attività di sensibilizzazione che stiamo facendo sul mercato con Microsoft, ma anche oggi con CEO4Life, insieme chiaramente ad altri colleghi CEO per confrontarci su questo importantissimo tema. Certo, un momento come questo è di estremo valore, perché finché si parla di intelligenza artificiale solo tra detti ai lavori, chiaramente è un punto di vista molto limitativo. Quindi oggi un incontro come questo con tutti i CEO4Life è estremamente interessante poter confrontarsi con altri colleghi, manager, imprenditori, amministratori delegati di aziende di diverse dimensioni e di diversi settori. Quindi è veramente la possibilità di fare cross-contamination tra di noi, ma anche veramente di confrontarci attraverso vari punti di vista. In questo momento ovviamente c'è molto interesse, è un tema sul tavolo di tutti gli amministratori delegati e non solo. molti di questi chiaramente hanno tantissimi dubbi, tantissime prepressità, anche alcune paure rispetto all'adozione dell'intelligenza artificiale all'interno della loro azienda, nei loro processi, nei loro sistemi. E oggi siamo qui proprio per discutere di questo, di quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale sul modo di lavorare, sulle persone, ma anche ovviamente sul business. Sicuramente uno dei temi importanti, che chiaramente è il filo conduttore di CEO4Life, è chiaramente che ruolo svolge la leadership riguardo a questo, e che ruolo può svolgere la leadership riguardo all'adozione dell'intelligenza artificiale. L'altro tema ovviamente è quello della sostenibilità, che è altro tema assolutamente caro a noi CEO4Life, sostenibilità nel senso di adozione responsabile, con un occhio all'etica, di questa fantastica tecnologia. Quindi un momento chiave di un percorso che stiamo facendo insieme, che credo porterà grandi soddisfazioni, sicuramente a noi personalmente, come azienda, ma anche a tanti colleghi, e sono sicuro che sarà una bellissima giornata. Per Avanad, il tema dell'intelligenza artificiale è un tema estremamente strategico, ovviamente. Come operatore nel mondo del digitale, del cloud, dei servizi e della system integration, ovviamente in questo momento l'intelligenza artificiale è al centro della nostra strategia, non solo all'interno dell'azienda, ma anche della nostra strategia commerciale verso i clienti. Una delle primissime azioni che abbiamo fatto per abbracciare questo fenomeno è quello di aver nominato un Chief Artificial Intelligence Officer, che si sta occupando chiaramente di portare a livello esecutivo questa strategia, sia all'interno che chiaramente verso il mercato e con i clienti. Altro tema importantissimo, naturalmente, è quello che abbiamo lanciato, grazie alla partnership con Microsoft, molte offerte, sono assolutamente innovative, che sono basate sulla piattaforma Copilot, che Microsoft ha lanciato con diverse sfaccettature, ovviamente frutto dei grossi investimenti che Microsoft ha fatto negli anni passati, negli ultimi mesi, dell'accordo con OpenAI, che in questo particolare momento consente di avere un vantaggio competitivo per Microsoft molto importante che stiamo cercando di sfruttare. Altro tema importantissimo, ovviamente, essendo un'azienda multinazionale, abbiamo sfruttato il nostro network ed è stato creato un Center of Excellence sull'Artificial Intelligence, cercando di mettere a fattor comune tutte le esperienze che nei vari paesi stiamo facendo, per metterle a scala rispetto a tutti i nostri clienti. Ultimo, ma non ultimo, ovviamente, il tema della formazione e della gestione del cambiamento. Abbiamo avviato all'interno della nostra azienda un'iniziativa nuova, che si chiama School of AI, che riguarda tutta la nostra popolazione, veramente tutta la nostra popolazione, quindi un percorso di formazione obbligatorio, per tutti i nostri dipendenti e collaboratori, sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista di adozione di quelli che sono gli strumenti di intelligenza artificiale. Questo perché vogliamo essere sicuri che le nostre persone siano assolutamente preparate per affrontare le sfide che i nostri clienti ci stanno ponendo rispetto all'adozione di questa tecnologia. Sfide che, ribadisco, non sono sfide solamente tecnologiche, ma sono sfide anche da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di supporto al cambiamento, da un punto di vista vero e proprio di adozione di questa tecnologia straordinaria che ormai fa parte sicuramente del nostro presente, ma farà sempre più parte del nostro futuro.